ciao a tutti bentornati su un viaggio col tubo oggi siamo a Byron bay e in realtà è il secondo giorno che siamo qui ieri siamo arrivati ma iluviava e non ci siamo goduti in nulla abbiamo fatto un giro abbiamo fatto un giro che adesso vi facciamo vedere in realtà oggi siamo tornati perché c'è il sole quindi siamo tutti la mattinata in spiaggia faremo un giro per i negozi ovviamente no Byron bay è una bella cittadina tranquilla surfisti ha i suoi dati negativi per esempio non si può dormire da nessuna parte da nessuna parte siamo dovuti andare in autostrada dormire su una delle aree di sosta e quindi questo purtroppo è un bel posto ma non si può stare non è backpackers friendly no per niente ovviamente backpackers se c'hai i soldi paga l'ostello noi non ce li abbiamo e non lo paghiamo non lo vogliamo pagare e quindi questo vi facciamo vedere la giornata di ieri abbiamo fatto un bel giro sul faro là in fondo e siamo arrivati fino al punto più est dell'Australia almeno la terra grande Australia senza contare le isole si e questo finalmente ci vediamo una giornata di sole era un paio di giorni che era brutto bene godetevi il giretto allora ciao 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 ciao